Questa serata è dedicata a presentare un libro di Marina Molce di Moncelsi, questo libro tratta del sindaco di Nuoro negli anni tra 1913 e 1915, è quindi un sindaco che pur potendo, avendo tutte quante le possibilità di non partire per il fronte, però spinto da un rispetto, oltre che un affetto grandissimo per i suoi concittadini, decise di partire, decise di andare. La storiografia a lungo si è interessata dei generali, delle battaglie, dimenticando i protagonisti, che sono gli uomini che sono andati a combattere, voi per ideale, voi per il senso della patria, voi per il senso dello vero e quindi in questa, diciamo, pedagogia della memoria, perché noi dobbiamo ricordare, è importante conoscere il passato, questa fetta importante della storia, perché dopo la guerra mondiale ha cambiato completamente la società, niente è stato più come prima. Mi incuriosiva la figura di Michele Papandrea perché di lui non si sapeva niente. Allo stesso tempo io sapevo che abitavo a poche decine di metri dalla casa Papandrea, una bellissima casa antica che c'è a Nuoro. Finché un giorno ho conosciuto una prunipote, a lei ho chiesto qualche informazione, e mi ha detto, ma se vuoi sapere qualcosa su questo mio pro-uzio, di cui anch'io so molto poco, ti do documenti. E così mi ha dato la documentazione di famiglia e ho scoperto una figura veramente molto bella. Michele Papandrea era un nuorese, come noi diciamo un po' scherzosamente, divertito, nel senso che era una persona molto ospitale, che si divertiva con gli amici, era amico di Sebastiano Sata, di alcune persone di quella che allora era chiamata l'Atene Sarda. E allo stesso tempo una figura che ha manifestato nella sua breve esistenza un comportamento di un senso civico eccezionale. era diventato sindaco di Nuoro dopo un periodo di commissariamento del Paesotto. Quel periodo purtroppo, cioè quando lui è diventato sindaco di Nuoro, purtroppo è scoppiata la prima guerra mondiale. E lui da sindaco credo che si sia trovato nella difficoltà di non doversi sentire diverso, perché lui era tutelato dal fatto, una specie di immunità, tra virgolette, perché era esentato dalla coscrizione. Ha accettato la richiesta della patria, è partito e purtroppo è morta nella battaglia dei Tremonti, quella che poi diventa la battaglia decisiva, perché la battaglia dei Tremonti, tra il 28 e il 31 gennaio del 1918, è la prima battaglia vittoriosa dopo la grande disfatta di Caporetto. Grazie per la visione!